Seconda tappa stagionale della Formula X Italian Series, circuito di Varano, siamo in compagnia di Flavio Mattara. Flavio, allora, il weekend purtroppo si conclude in anticipo per te, un problema in gara 1, ti costringe ad alzare bandiera bianca. Che cosa è successo? È successo che semplicemente durante il primo giro, adesso stiamo ancora analizzando bene la situazione tecnica, sembra che un cavo del cablaggio dell'impianto elettrico della macchina abbia fatto un contatto tipo massa, magari tecnicamente lo spiegano meglio i nostri tecnici, un corto praticamente, ha scaldato molto così e ha innescato un incendio. La macchina ha preso fuoco e ho dovuto fermarmi e anche aiutare i commissari a spegnere la macchina perché sennò sarebbe stata bruciata e persa completamente. Sono stato avvolto, ho visto una lingua di fuoco che praticamente mi è sobalzata in avanti, così ho pensato che forse era meglio ralentare e fermarsi lì perché era forse più complicato continuare la gara. Senti, comunque il weekend fino a quel punto sembrava stesse evolgendo nel migliore dei modi per te, una buona prestazione in qualifica, un buon inizio di gara 1 e poi questo problema purtroppo ti è escluso dalla gara. Allora vorrei premettere che la nostra macchina è una macchina un po' sperimentale, in quanto non monta il proprio motore originale della costruzione, ma è un motore turbo che lo stiamo sviluppando e ci dà anche qualche grattacapo praticamente tecnicamente. Questo in qualifica per assicurarsi di poter partire, almeno in queste prime gare, almeno per fare gara 1 praticamente, siamo abbastanza conservativi in qualifica così. però insomma tutto sembrava che procedesse per la situazione migliore e invece non è stato così, le corse sono anche così e bisogna insistere, non bisogna mai mollare. Appuntamento in pista dunque alla prossima occasione, più carico che mai? Sì, sicuramente. Spero vivamente che la macchina sia in ordine per la prossima gara. Sono molto fiducioso dei ragazzi del team di RZ Benelli che stanno seguendo da pochissimo praticamente questa macchina e sono molto ma molto entusiasmati di poter, come si può dire, lavorare su questa macchina e ho molto fiduciosi in loro. Da parte mia ci sarà la massima ma massima spinta possibile perché vogliamo andare a podio. È il nostro obiettivo. Forse è quello che dico un po' troppo, magari esagerato, ma è l'obiettivo che noi ci siamo prefissati e lo vogliamo praticare. Allora grazie a Flavio Mattare in bocca al lupo, complimenti nonostante il guasto tecnico e ci vediamo in pista alla prossima. Speriamo di sì e sicuramente sì. Grazie a voi, grazie a molti. E un saluto a tutti.